ragazzi ben trovati oggi vi propongo la scheda tecnica cerco di spiegarvi in pochissimi minuti perché è importante farla perché è una cosa che propongo sempre ai ragazzi che mi chiedono di studiare in modo privato questa è una cosa fondamentale che le lezioni su youtube nel momento in cui finalmente avrò il tempo di caricarle tutte e di analizzare tutto il troncone principale che come ho detto spesso nelle lezioni andrà a coprire l'ottanta 90 per cento delle materie che vengono chieste ai concorsi ok il restante 20 10 per cento possiamo dovremmo andarlo a preparare in via integrativa se volete personale con me se no ve lo integrate con i libri di testo con altri video su youtube con video lezioni studio personale i modi ci stanno l'importante è capire questo che i video su youtube devono servire come prima immersione primo approccio al diritto vi fate un'idea generale del metodo che propongo del ragionamento che propongo degli obiettivi che propongo dell'orizzonte temporale che propongo sulla base di quello tarate i vostri sentimenti ok il vostro approccio a questa materia al concorso pubblico e eventualmente se avete bisogno mi scrivete cosa possiamo fare quiz privati uno contro uno non contro uno con uno cioè mi metto lì con voi e facciamo domanda per domanda cerchiamo di capire come vengono costruite le risposte che vuol dire che la risposta è sempre nella domanda del quiz possiamo fare prove scritte quindi le famose tre domande due domande a cinque sei righe dove bisogna parlare di un argomento in generale come vedremo lì non mi viene mai chiesto parli il candidato dell'articolo 21 septies della 241 ma ci approccieremo con domande più vaghe tipo parli il candidato della nullità del provvedimento amministrativo ok quindi là bisognerà fare proprio una costruzione avere in testa cosa dire come dicevano i latini rem tene verba sequentur cioè se possiedi la materia rem tene se la possiedi verba sequentur le parole vengono da sé possiamo fare l'orale io mi metterò visto che ho fatto anche membro esperto di commissioni di concorso adesso comuni italiani ci mettiamo e facciamo anche la prova orale io mi metto lì faccio il presidente di commissione facciamo informatica facciamo inglese facciamo tutto cercherò anche di mettervi in difficoltà più facciamo adesso più ci troviamo comodi dopo la scheda tecnica il lavoro personale con me è integrativo vi lascio chiaramente tutti i miei contatti sia in calce alla scheda tecnica che nel link in descrizione voi mi iscrivete parliamo ci conosciamo ci fumiamo una sigaretta insieme ci prendiamo un caffè insieme a distanza chiaramente o anche in presenza come scegliete voi e cerchiamo di fare il piano migliore che più si adatta a chi siete a come siete vediamo nel dettaglio chiaramente ragazzi oltre al nome oltre all'attuale occupazione questo giusto per farci un'idea un po di chi di chi siamo il titolo di studio anche questo è importante chiaramente per capire in che tipo di concorso andarci a collocare se abbiamo soltanto il diploma e non è un soltanto perché abbiamo iniziato tutti così possiamo raggiungere certi tipi di concorsi ci muoveremo per elementi di diritto là dove invece abbiamo una laurea magistrale vogliamo puntare a una categoria di locale a una categoria f ministeriale avremo un altro tipo di preparazione il cellulare chiaramente per ovvi motivi vi chiederò se hai mai partecipato a un concorso pubblico se sì quante volte ok devo capire se sapete anche solo che cosa significa fare tre ore di attesa fuori insieme ad altre mille persone sapete gestire questo tipo di ansia mentale vi assicuro che non tutti lo sanno fare sapete che cosa portarvi a un concorso dall'acqua alla merendina sapete che cosa vuol dire sedersi a un tavolo per fare un concorso e sapere che prima di un'ora non si comincia perché devono terminare le le processioni d'ingresso le persone che vanno al bagno la spiegazione del concorso quelli sono tutti i momenti dove bisogna essere zen raccogliere tutte le energie quindi vi chiedo se hai se avete mai partecipato a un concorso pubblico anche per questo scopo qua chiaramente una tua opinione istintiva sui concorsi pubblici qua ve la chiedo puramente istintiva mi stanno sulle balle bellissimi odiosi scrivetemi quello che vi viene in mente qual è il tuo obiettivo studiare per conoscere vuoi vincere un concorso vuoi trovare un lavoro cerco un approccio al concorso cerco una preparazione su singole materie siate voi specifici quanto tempo hai a disposizione durante la settimana per la domanda numero 8 chiaramente vi chiedo un parametro generale c'ho un paio d'ore c'ho tre ore c'ho dieci ore c'ho mezz'ora sulla base di quello tranquilli che riusciremo a trovare l'incastro perfetto domanda numero 9 orizzonte temporale perché è fondamentale andiamo a leggere studiare per un concorso implica una minima programmazione temporale bisogna subito abituarsi all'idea che i risultati si vedranno dopo mesi dunque che orizzonte temporale senti di poter dedicare a questo tuo progetto questi video che faccio queste lezioni integrative non sono one shot non vi garantiscono in due settimane una preparazione un concorso chiaramente se già ce l'avete volete solo fare un rinforzo una prova orale sì non vi servono mesi però generalmente da statistica rispetto a tutti quanti gli studenti che ho e che ho avuto l'idempo questa cioè ho visto che circa una preparazione semestrale può essere un qualcosa di attendibile non vi scordate non vi scordate che siamo in un'epoca di grandi concorsi pubblici non parlo di grandi a livello numerico cioè tanti enti che lo propongono no parlo di grandi come profili messi a concorso parliamo di 500 posti mille posti 2000 posti quindi scatta la prova scritta unica al limite solo con la presa elettiva questi 3 4 5 anni anche con il nuovo governo sono fondamentali e bisogna puntare sulla preparazione se la facciamo bene adesso tra un anno alla più ve la spendete in modo fantastico su tutti i concorsi di tutti e 8.000 passa ai comuni italiani misteri enti agenzie va bene per tutto sono tutti elementi comuni a quale profilo professionale ambisci lo abbiamo visto con che tipo di materia di studio ti senti più confidente che voglio dire con questa domanda voglio dire che ci sono persone che quando leggono diritto penale si mettono paura e li hanno bisogno che io sia un po più comprensivo altre persone invece con il penale ci si trovano benissimo banalmente perché gli piace il crime e quindi riescono a parlarne meglio di penale a leggerlo meglio idem costituzionale idem amministrativo quella è una questione di vostra forma mentis con quali meno chiaramente voglio sapere anche il processo opposto che vi si attiva nel cervello che percentuale di autonomia ritieni di avere nello studio questa chiaramente è una domanda anche un po bastarda forse anche un po questa da concorso pubblico perché perché è difficile chiaramente per una persona rendersi conto da sé di che tipo di autonomia ha però siamo adulti siamo vaccinati vogliamo lavorare già lavoriamo vogliamo migliorare la nostra condizione professionale direi che un po di autocritica e di autogiudizio senza vergogna e pudore possiamo farlo quindi che percentuale ritieni di avere di autonomia ritieni di avere nello studio 50 per cento cioè riesco solo a fare i quiz o solo a leggere ma non a fare i quiz l'orale non so proprio come approcciarmi questo vi chiedo datemi una percentuale vaga chiaramente chiaramente perché ho messo al numero due il cellulare perché queste sono cose che mi scrivete voi poi vi chiamo ok chiudiamo con si sempre consapevole che mollare è una eventualità normale non è un fallimento ok se parti con questa idea lo studio sarà più leggero cioè nel momento in cui sentite di essere vincolati a questa cosa qua non vi fate problemi nel tirarvi indietro non è un'università questa bisogna fare le cose con calma può essere che studiate un mese tantissimo vi piace poi per tre settimane perché estate perché vi è accaduto qualcosa a livello personale dovete mollare un attimo non fatevi problemi per i prossimi cinque anni avremo concorsi a go go concorsi a go go approfittatene adesso fatevi la preparazione adesso non solo con me come volete ma approfittatene la mia vi dico è più funzionale è più colloquiale è più leggera ma è anche precisa ma è anche studiata specificatamente per i concorsi approfittiamone di questa grande stagione di concorsi c'è stato il rinnovo contrattuale del ccnl ragazzi siamo in un periodo fresco andiamo puntiamo non molliamo proprio adesso quindi scaricatevi la scheda compilatela mandatemela chiamatemi inviatemi una mail fate quello che volete ma interveniamo basta cazzeggiare come ho scritto su youtube quindi abbiamo detto tutto piccole vacanze adesso torno intorno al 20 agosto a roma e poi si riparte con il pacchetto facciamo anticorruzione quindi legge sepirino 190 del 2012 tutto il pacchetto anticorruzione poi partiamo con la trasparenza così il diritto amministrativo iniziamo a asciugarlo e filtrarlo bene buon lavoro ragazzi sono sempre qua a disposizione ciao ciao Grazie a tutti.